La vita della cultura, la vita culturale di un paese che talvolta, disgraziatamente come il nostro, che è particolarmente disgraziato, che ha dei problemi gravissimi, basterebbe dire la disoccupazione, e noi spendiamo i soldi per fare un po' di teatro, per fare un po' di musica, per fare qualche poesia, per fare qualche cosa così, è giusto o non è giusto? Bisogna spiegare al pubblico, bisogna spiegarlo al pubblico, di dire innanzitutto che le cifre che costa la cultura sono veramente irrisorie di fronte a quello che costa una giusta politica sociale e una giusta politica finanziaria di una nazione, secondo che il bene della cultura e la cultura sono il viso spirituale di un paese, sono la sua immagine, la sua immagine nel mondo, che non è fatta soltanto da denaro o da traffici, ma è fatta anche da cose che hanno a che fare con lo spirito, che hanno a che fare con la bellezza, che hanno a che fare con queste cose qui. Quindi un paese è qualche cosa, una civiltà è qualche cosa, se è civile, se ha delle cose. Noi siamo un paese ricchissimo da questo punto di vista, abbiamo l'80% delle bellezze artistiche di tutto il mondo, per dire, quindi la cultura per noi è una cosa estremamente importante. Lo sfruttamento della cultura, sfruttamento in senso buono, farlo vendere in qualche modo, farlo vedere anche in qualche modo, perché il bene culturale poi ha questa caratteristica meravigliosa, che lo si vende e lo si tiene. Cioè noi facciamo vedere un quadro e diciamo tu mi dai 50 mila lire per vedere questo quadro e poi me lo tengo. Tu hai dato 50 mila lire per vedere la Madonna di Masaccio, non perché te l'ho data, rimane a noi, rimane. Quindi è un bene perenne che noi abbiamo e in questo bene perenne non devono crollare le cattedrale di noto, non si deve non poter andare in un museo, bisogna considerare questo patrimonio estremamente importante. E la vita culturale del nostro paese, l'Italia, è direi il fondamento forse della nostra civiltà, è più importante la vita culturale del nostro paese che qualche autostrada in più e qualche automobile in più. Vorrei che si pensasse a un teatro in movimento, continuo, verso il domani, alla ricerca continua, dove il passato sia il punto di appoggio perché si vada avanti. Vorrei un teatro che fosse non soltanto come noi siamo abituati a fare, 50 anni abbiamo fatto questo, anche altro ma insomma sostanzialmente siamo un teatro di prosa che fa il teatro che si parla, in cui si parla, in cui si dicono delle cose, forse un pochino più mobile. Ci fosse il teatro in cui si parla, si dicono delle cose, poi c'è un teatro in cui nel silenzio ci si muove e si fanno delle cose in silenzio, il mimo, il ballo, in cui ci fosse la possibilità di fare un'opera, per esempio con un'opera in musica, con la gente che canta, poi ci fosse, che so, un festival del cinema per esempio, ci fosse il cinema, ogni tanto ci fosse il cinema, dopo 10 giorni di uno spettacolo bellissimo, o non bellissimo, ci fosse una settimana di cinema.